Grazie a tutti voi di essere intervenuti, grazie al senatore, grazie all'avvocato Venturino e il vicepresidente. Io do il saluto da parte dei democratici cristiani per la federazione delle donne democratiche cristiane interpartitiche ed esternamente l'Italia moderata. Il nostro è un impegno serio, un impegno che porterà anche delle spese che noi sopporteremo, vogliamo raggiungere il 4%, non il 5%, mi spiace per ferramonti, speriamo che arriviamo al 4% e basta e portiamo i nostri candidati in Europa. Auguri a tutti. Grazie.